Ascolta Bella, cosa ho pensato? Tre possibilità. Non ci vediamo mai più. Con la tua piccola, a più presto possibile. Perché mi manchi? Sei proprio maccio, ma io che devo fare con te? Ah, sono un battante. Quello di tirare i sacchi, vestite eleganti. Marco, piano, mi raccomando, guarda che ti spanchi tutto. Vieni, vieni a lanciare il pietre. Rimani lì. Vieni, 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 vieni.